Siamo ritrovati oggi a presentare Davide Moscardelli, dopo una lunga attesa e un lungo parlare di lui finalmente siamo riusciti a portare a Bologna. Il primo impatto è stato sicuramente positivo, la voglia c'è di mettersi in discussione, di tornare a giocare, quindi riesco a giocare da dovunque. Sarà dura fino alla fine, sicuramente è un'ottima opportunità che mi è capitata, quindi cercherò di sfruttarla al massimo. Voglio continuare a giocare perché quello che so fare meglio è quello che mi piace. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.